Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi brownies. Questa ricetta è veramente favolosa, nata nel 900 in America e da allora è uno dei dolcetti più conosciuti in assoluto ed è anche una goduria per gli amanti del cioccolato. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno un cucchiaino piccolo di sale. Abbiamo scaldato il burro in microonde fino a che non è diventato bollente poi abbiamo preso una ciotolina più capiente abbiamo aggiunto il cioccolato ora ci mettiamo anche il burro con una palettina mescoliamo tutto per bene finché non è diventato composto omogeneo. Mentre il nostro composto si sta raffreddando prendiamo una boll bella capiente e ci mettiamo dentro le nostre uova lo zucchero semolato e lo zucchero di canna poi prendiamo le nostre fruste elettriche e mescoliamo per bene il tutto finché non diventa una bella crema. Ecco la consistenza che deve raggiungere la nostra crema. A questo punto prendiamo il nostro composto di cioccolato e burro e ce lo trasferiamo sempre aiutandoci con la nostra cara palettina. Poi con le fruste elettriche mescoliamo tutto per bene finché non diventa omogeneo. Fatto ciò mettiamo in un setacino le nostre polveri ossia la farina e il cacao. li setacciamo per bene finito di fare ciò mescoliamo il nostro impasto con movimenti delicati da sotto verso sopra. Ora possiamo aggiungere il sale e il caffè istantaneo. continuiamo sempre a mescolare. A questo punto possiamo aggiungere anche il nostro cioccolato a scaglie continuando a mescolare sempre. Abbiamo tappezzato una teglia di 24 cm per 24 cm. ci andiamo ad aggiungere tutto il nostro impasto poi cuociamo il tutto a forno normale 180 gradi per 20-25 minuti. Aiutandoci con una palettina livelliamo il tutto per bene. Ed ecco qui come è venuta la nostra torta dopo 25 minuti di cottura. adesso la lasciamo raffreddare dentro la teglia e ci vediamo dopo per il taglio. Ma guardate che meraviglie di brownies che ci sono venuti ragazzi! Ok ragazzi ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso ci gustiamo queste meraviglie di brownies. Mamma mia ragazzi sono speciali si sciolgono in bocca si sente perfettamente il gusto di cioccolato poi c'è quel retrogusto molto leggero dato dal caffè e l'amaro del cacao che completa il tutto. Insomma ragazzi veramente sono meravigliosi assolutamente da provare! Bene ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella!